Vi saluto con la pace del Signore, che Dio ti possa benedire grandemente anche oggi e in questo fine settimana. Oggi sabato 12 febbraio 2022 ci vogliamo apprestare ad ascoltare il meraviglioso messaggio della parola di Dio che oggi dice proprio così. Io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò più del loro peccato. Libro di Geremia, capitolo 31, verso 34. Gli portarono un paralitico disteso sopra un letto. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico, figliuolo, coraggio, i tuoi peccati sono perdonati. Vangelo di Matteo, capitolo 9, verso 2. E il titolo di questa meditazione biblica è questo, il nostro bisogno di perdono. Chi di noi non ha bisogno di un perdono che cancelli proprio tutti gli errori del passato? Chi non aspira ad una vita in pace con Dio e che magari prosegua anche dopo la morte? Quei segreti che credevamo sepolti a volte ci ossessionano ancora. Certi atti colpevoli commessi in piena coscienza di causa e di cui ci vergogniamo rimangono ancorati nella memoria. Chi potrebbe liberarcene? Chi potrebbe? Ci accompagneranno fino all'aldirà forse? Non lo so. Gesù Cristo è l'unico che può rispondere a questo bisogno di perdono, di pace, di eternità. La sua morte sulla croce ha cancellato i peccati di chi crede in Lui però. Riguardo alle cose che ci sembra impossibile dimenticare, quelle cose che non riusciamo a perdonarci, il Signore dice, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come la porpora diventeranno come la lana. Isaia 1 verso 18. Non mi ricorderò più del loro peccato, dice il Signore. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata, dice il Salmo 32 verso 1. Non c'è più dunque nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Lettera ai Romani, capitolo 8 verso 1. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Sì, Dio perdona, ma dobbiamo riconoscere la nostra colpa, dobbiamo confessargli ciò che abbiamo fatto. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele, è giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Dio allora può dire, hai fatto tutto questo, ma è tutto cancellato. Il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Lo sai perché? Perché nel sangue di Gesù c'è potenza, proprio come dice quel canto. Nel sangue di Gesù, nel sangue di Gesù, nel sangue di Gesù c'è potenza. Dio ti benedica, che Dio possa dare pace al tuo cuore e che tu possa aprirti interamente al Signore, perché Lui possa perdonare ogni tua colpa, anche quella più nascosta, anche quella più remota, anche quella che ti ossessiona. Dio può perdonarla. Apri il tuo cuore al Signore e vedrai la pace di Dio che sopravvanza ogni intelligenza, custodirà il tuo cuore e la tua mente in Cristo Gesù. Pace a te e ci vediamo domani. Grazie a tutti.